Non è facile trovare nella tradizione buddista una spiegazione sintetica delle diverse etappe per andare verso la nostra interiorità. Eppure, nel viaggio che abbiamo fatto nello Sri Lanka, abbiamo trovato proprio quello, una pietra che riesce a spiegare di modo conciso quali sono le diverse etappe per andare dal profano al sacro. Andiamo a scoprirla. Qui siamo davanti a questa pietra semicircolare chiamata la pietra di luna perché proprio corrisponde anche ai cambiamenti interiori della vita umana ed è quella che andiamo a spiegare più in dettaglio adesso. E come potete vedere ha diversi disegni semicircolari che rappresentano i diversi gradi fra l'esteriorità e l'interiorità di noi stessi. E quindi il primo semicirchio è rappresentato dal fuoco, fuoco che ci divide fra l'al di là e l'al di qua. E quindi quel fuoco che dobbiamo attraversare per vivere l'esperienza umana. Una volta attraversato questo entriamo in questa vita giustamente fatta da cicli ed è il tema principale di questa pietra di luna. Cicli che iniziano dall'elefante che rappresenta la nascita, la forza che uno deve tenere per nascere, non nascere fisicamente ma anche la nascita di nuovi progetti, nuove avventure nella vita che richiedono energia, forza dell'elefante ma anche se l'elefante non è molto agile nemmeno. Poi con gli anni sviluppiamo l'agilità del cavallo. Questo cavallo che è capace di correre veloce e che riesce a fare velocissime, ha imparato da piccolo le cose con l'elefante, adesso riesce a farle veloce ma anche ci insegna come il cavallo a riposarsi perché uno può correre, correre fino a un certo livello e poi dopo deve imparare l'equilibrio della vita, trovare l'equilibrio tra il correre e il non correre. E poi con gli anni arrivano gli ostacoli e le malattie, le difficoltà ed è per quello che bisogna avere la forza del leone che ritroviamo terzo animale sulla lista che ci dà questa forza di essere capaci di cambiare le cose, di vedere che cosa non va, che cosa va e modificare quello che non va. E questo è la forza del leone. Infine troviamo questa mucca, mucca indiana, la bufala in qualche modo, che è capace invece di poter dare l'energia finale, quella che ci porta a continuare malgrado l'invecchiamento, malgrado gli anni che sono passati e di arrivare alla fine della vita o alla fine di un progetto completando con difficoltà ogni tanto quello che abbiamo fatto. E allora il progetto è compiuto e arriva alla morte del progetto, ma anche la morte in nostra fisica per ripartire in un'altra sequenza e così via. Tutta la vita esteriore è fatta da queste quattro fasi, quattro grandi fasi che ritroviamo in tanti aspetti della letteratura sia egiziana, induista. Lentamente nel nostro viaggio verso l'interiorità arriviamo al terzo cerchio, semicerchio, in cui vediamo questa liana che proprio rappresenta la natura e i suoi attaccamenti, l'attaccamento che ci impedisce di andare verso l'interiorità. Siamo sempre attaccati a questo che è esteriore a noi stessi e non alla parte interiore ed è quello che dobbiamo imparare a liberarsi per tornare dentro di noi, malgrado le tentazioni che ci spingono sempre fuori. E una volta attraversato questo confine arriviamo a questo che è il cigno, la forza del cigno, che è capace di andare a cercare sul lago il cibo, distinguere quello che è giusto di quello che è sbagliato, sapere distinguere quello che serve e quello che non serve. Ed è questo discernimento che è la base della scelta della nostra vita, non più subire la vita come l'abbiamo fatto nelle parti solo esteriori, ma più entriamo dentro e più iniziamo dentro di noi stessi, a scegliere noi stessi quello che vogliamo, che è giusto per noi e quello che non è giusto per noi. Non è finito lì il percorso perché c'è un'altra tappa di attaccamenti ancora a deliberarsi e arriviamo a quel lotto, fior di lotto, che abbiamo in centro, dai suoi petali esteriori ai suoi petali interiori, che corrisponde al simbolo della realizzazione, che è quella capacità di andare a cercare nel fango dove sono le radici del fior di lotto per portarlo a farlo crescere e trasformarlo alla luce del giorno. Ed ecco la via spirituale, quella di essere capace di andare nelle nostre parti inferiori e non negarli, ma invece poterli trasformare interiormente in qualcosa di più bello, di più forte. E questo rappresenta la nostra interiorità. E allora iniziamo a diventare un fiore, un fiore che con l'aiuto della compassione ci indica che è ora di partire verso la compassione, verso l'amore agli altri, verso di nuovo l'esterno. Ma questa volta in un viaggio diverso dall'inizio, perché andiamo verso gli altri pur mantenendo questo fiore interiore, senza perdere la nostra capacità di ritrovarsi. E allora possiamo andare nel mondo esteriore rimanendo collegati a noi stessi. Ed è quello il messaggio di questo Tempio, è il messaggio per tutti noi oggi. Grazie a tutti.